Martedì 27 ottobre ci troviamo a Firenze per un workshop di infoprogetto organizzato da action group editore in collaborazione con la fondazione degli architetti di Firenze si parla di design e dell'ambiente dedicato al benessere e l'igiene un'occasione per parlare anche con le tante aziende presenti delle novità tecnologiche presenti sul mercato allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato Astrapool Make è un compatto un modulo compatto che sostituisce in un colpo sono e in una forma intelligente tutta l'impiantistica al servizio del della piscina della piscina residenziale la piscina residenziale convenzionale è servita da un'impiantistica classica che ha bisogno di spazi abbastanza sostenuti e soprattutto è diciamo gestita in forma manuale il pulmè che è un compatto tra l'altro gestito da un software di nostro sviluppo un software intelligente che riuscire in un solo metro cubo tutta la necessità di poter filtrare trattare e dosare l'acqua della della piscina credo che sia responsabilità soprattutto di un multinazionale quella di garantire nei propri processi di presentazione al mercato e di prodotto di progettualità appunto un una sostenibilità verso verso il mercato io sono convinto siamo convinti che per fare questo lavoro l'interlocutore debba essere in prima battuta un professionista l'architetto nel caso particolare che è un professionista che ha il primo approccio nel collocazione della piscina all'interno di un contesto sono convinto che sia un referente adeguato per passare questo tipo di messaggio anche all'utenza finale